Adesso è ufficiale, dopo la vittoria della Roma sul Napoli, la Juventus ha conquistato il suo quinto scudetto consecutivo e i festeggiamenti per la grande impresa bianconera hanno preso il via. Ci ha provato soprattutto nel secondo tempo il Napoli oggi contro la Roma a tante occasioni, ma poi nel finale i giallorossi hanno vinto con la rete di Nainggolan e il secondo posto per la squadra di Spalletti ora è a due punti. Buonasera a tutti dalla TMV News, un'edizione dedicata alla Juventus, è ufficiale, il quinto scudetto consecutivo per la squadra di Allegri, una grande impresa quella della formazione juventina, soprattutto alla luce di come era partito il campionato con tante difficoltà, con una Juventus che sembrava addirittura in difficoltà in vista di una possibile qualificazione all'Europa e poi invece nel momento in cui sono arrivate davvero i problemi la Juventus ha saputo reagire, ha saputo mostrare il carattere che l'ha sempre contraddistinta e ha compiuto un'impresa che resterà assolutamente negli annali e dobbiamo assolutamente celebrarla quest'oggi. Ne parliamo qui con Raimondo De Magistris, buonasera e buonasera anche a Ivan Cardia. Buonasera, buonasera. Juventus che è stata protagonista con la vittoria di ieri contro la Fiorentina del 24esimo successo su 25 partite, ma al di là di questo sottolineavo poco fa l'importanza della conquista di questo scudetto per come è maturato, per tutte le difficoltà che ha saputo affrontare e superare. Sì, superare perché mai nessuna squadra dopo aver conquistato 12 punti nelle prime 10 giornate si è poi ritrovata a vincere lo scudetto, ma con che facilità? Perché poi a tre giornate dal termine la Juve ha 12 punti di vantaggio sul Napoli seconda in classifica, sono arrivate 24 vittorie nelle successive 25 partite, segno del dominio incontrastato della Juventus in questa Serie A, un dominio legittimato da una rosa nettamente più forte rispetto a quella delle rivali, ma anche da una mentalità che contraddistingue questa squadra sia in casa che in trasferta, perché poi è soprattutto in trasferta che la Juventus quest'anno ha vinto il duello col Napoli. Qual è stato secondo te Ivan Cardia l'uomo simbolo di questa Juventus? Tanti hanno sottolineato l'importanza ai Buffon, anche ieri è stato il protagonista assoluto con i suoi interventi, con il rigore parato a Kalinic. Sì, tra l'altro Buffon non dimentichiamo che ha stabilito un nuovo record di imbattibilità in Serie A, in 973 minuti rimangono un po' la fotografia di questo quinto scudetto consecutivo per la Juventus. A livello tattico secondo me l'uomo chiave è stato Paolo Di Bala, che ha avuto un impatto inizialmente non tanto decisivo, all'inizio stagione si sentiva un po' troppo il peso dell'eredità di Carlos Tevez. Invece col passare delle giornate ha preso in mano una squadra, è un giocatore praticamente inarrestabile, oltre ad essere il goleador della Juventus è neanche diventato il regista offensivo un po' come lo era Tevez. Quindi oltre a Buffon, che insomma per doti tecniche e anche caratteriali, perché quando le cose stavano andando male è stato anche lui a tirare un po' la squadra per le maniche, insomma a farle capire che non andava bene così, direi Paolo Di Bala. Altri due giocatori secondo me da sottolineare. Paul Pogba quest'anno è cresciuto tantissimo, con la maglia numero 10 si è sentito responsabilizzato, è partito male ma come tutta la Juve però col passare dei mesi, delle settimane è stato sempre più il trascinatore di questa Juventus. E poi Claudio Marchisio, perché non ha fatto in alcun modo rimpiangere Pirlo, la sua assenza a inizio stagione si è sentita tantissimo, non è un caso che la Juve abbia iniziato a marciare a gonfie vele proprio col ritorno in campo di Claudio Marchisio. Secondo me questi due giocatori sono stati determinanti, oltre ovviamente a una difesa granitica di gran lunga la migliore della Serie A. Juventus ad esempio con Marchisio non ha mai perso in Serie A, con Marchisio in campo non ha mai perso in Serie A, è un dato abbastanza significativo effettivamente. Adesso caccia alla Champions per la Juventus nella prossima stagione, già a partire dal prossimo anno l'idea è quella di vincere dentro due anni, comunque insomma la Juventus ci proverà nella prossima stagione con Pogba sempre in bianco nero? Allora caccia alla Champions sì, anche se ovviamente la Champions secondo me non si può programmare, nel senso che ci sono così tante incognite nel corso di una stagione che non può essere un vero e proprio obiettivo. Si punta a fare il massimo possibile, poi ci può essere un sorteggio fortunato che aiuta, uno sfortunato che magari butta giù la squadra. Per quanto riguarda Pogba ovviamente la situazione in divenire è effettivamente uno degli uomini simbolo, poi la Juve quando ha un 10 e un 21 forte vince la storia insomma che lo ricorda in tempi recenti, Pirlo Tevez, Dybala Pogba, del Piero Zidane qualche anno fa. Se resterà è un grosso interrogativo, ovviamente comunque va dalla cosa Pogba sarà il punto di forza della Juve, se resta sarà il leader tecnico assoluto, se va via garantirà 100 milioni di euro con cui si può ricostruire la squadra. Delusione, così cambiato argomento, delusione in casa Napoli per la sconfitta di oggi contro la Roma, un Napoli che soprattutto nel secondo tempo sembrava poter dare l'impressione di vincere la partita, ha avuto varie occasioni però poi è stato castigato dal gol di Nainggolan. La sconfitta è meritata perché la Roma ha fatto davvero poco o nulla fino a quel momento, le più ghiotte occasioni erano state create all'Olimpico proprio dal Napoli, da Gonzalo Higuain sia nel primo tempo con un miracolo di Cesni ma anche nella ripresa, Higuain è andata a un passo dal gol del vantaggio, il salvataggio di Rudiger su Amsic pronto a ribattere a botta sicura, insomma un Napoli che doveva uscire dall'Olimpico quantomeno con il pareggio, invece adesso si ritrova con due soli punti di vantaggio rispetto alla Roma terza in classifica e con un doppio confronto a sfavore per ciò che riguarda gli scontri diretti, quindi a questo punto si è riaperto il discorso secondo posto anche se il Napoli ha un calendario migliore rispetto a quello della Roma. Può venire un po' di paura insomma al Napoli per difendere questo secondo posto. Sì, decisamente sì, anche perché l'abbiamo visto nella corsa a Scudetto come il Napoli sia venuto meno soprattutto psicologicamente nel confronto con la Juventus e la Roma a inizio stagione partiva con altri obiettivi rispetto al Napoli, era la squadra, la vera antagonista della Juventus per la corsa per il titolo, è una rosa più forte e completa e il Napoli ha questo vantaggio, certo la gara di oggi ha rimesso tutto in discorso, è un risultato immeritato ma il risultato è quello che è, la Roma ha vinto e quindi si riporta meno due dal secondo posto. La Roma Ivan sembra continuare ad essere accompagnata dalla buona sorte al di là delle proprie capacità, al di là dei propri valori perché comunque anche contro il Torino aveva rischiato addirittura di perdere e poi ha vinto e anche stavolta quantomeno poteva essere il pari il risultato più giusto. Sì, la buona sorte aiuta anche se la buona sorte va inseguita, penso che la Roma in questo stia meglio del Napoli, nel senso soprattutto a livello mentale, come giustamente diceva Raimondo, il Napoli è accusato parecchio da un certo punto della stagione in poi, c'è stata anche la squalifica di Guain che comunque a livello psicologico un suo peso, se non oltre che tecnico ovviamente, un suo peso l'ha avuto, vedo meglio la Roma, poi fortunato o no, insomma il calendario oggettiente le riserva l'unica trasferta difficile che affronteranno le due squadre perché giocherà contro il Milan, penso che appunto sia stata aiutata un po' dalla buona sorte, però quando sei cattivo e quando fai di tutto perché la buona sorte ti aiuti alla fine ti premia insomma la dia vendata. Dovessi essere terzo posto per il Napoli cambierebbero le valutazioni sulla stagione dei partenopei? Tantissimo perché questa squadra ha accusato soprattutto la sconfitta di Torino all'Oriventus Stadium, è stata quella la chiave di volta della stagione in negativo per il Napoli e in positivo per la Juventus. Il Napoli secondo me merita di chiudere comunque la stagione al secondo posto perché ha disputato un'ottima stagione oltre ogni più rosa e aspettativa, ma questo Napoli ha fatto di più e meglio della Roma in questa stagione. Certo adesso è tutto aperto e cambierebbe molto anche in previsione estiva, sia perché a quel punto bisognerebbe anticipare il ritiro, cosa non da poco nell'estate dell'Europeo, della Coppa America, sia perché cambiano poi i programmi anche in chiave calciomercato, l'abbiamo visto due anni fa, proprio quando il Napoli arrivò terzo in classifica con De Laurentiis che subordinò tutti gli acquisti alla qualificazione ai gironi di Champions League e molte trattative saltarono proprio perché il Napoli non riuscì ad anticipare gli acquisti. È una Roma che invece può sfruttare il momento di grande entusiasmo, è tornata l'euforia in casa giallorossa dopo che le polemiche sul caso Totti sembravano poter condizionare i giocatori, lo spogliatoio Spalletti che sembrava poter perdere un po' di certezze, invece così non è stato. Ma sì, ma secondo me quelle polemiche alla fine hanno quasi rafforzato l'ambiente giallorosso perché comunque a conti fatti Totti utilizzato con il contagocce, con qualche polemica con Spalletti poi si sta rivelando decisivo per la Roma, quindi forse effettivamente Spalletti lo sta usando al meglio gli sta tirando fuori quella cattiveria agonistica che magari un giocatore di 39 anni poteva avere un po' lasciato da parte, quindi da questo punto di vista la Roma sta secondo me molto meglio del Napoli. Chiudiamo qui questa edizione del TMV News dedicata in gran parte anche al quinto scudetto consecutivo ufficiale da parte della Juventus, oggi la Juventus ha potuto festeggiare, lo farà anche nei prossimi giorni domenica prossima in occasione della partita con il Carpi, visto il risultato tra Roma e Napoli che ha visto la squadra di Spalletti vincere per 1-0 contro i partenopei. Grazie a Raimondo De Magistris e grazie anche a Ivan Cardia. Buon proseguimento di serata a tutti! Grazie a tutti!